L'eufonium è uno strumento a fiato, appartenente alla famiglia degli ottoni. È chiamato in molti modi diversi, a seconda della lingua e della tradizione degli stati. In Italia i diversi nomi sono eufonio, flicorno basso e bombardino. In Inghilterra è chiamato eufonium, in Francia tenor tuba, in Germania bariton e in Spagna bombardino. All'apparenza l'eufonium è simile ad un basso tuba. La differenza più significativa sta nel fatto che l'eufonium suona un'ottava sopra rispetto alla tuba. Ci sono moltissimi artigiani che costruiscono l'eufonium. Personalmente io mi trovo molto bene con il Besson Prestige. Questo modello dona al musicista un suono veramente definito, con una vastissima varietà di colori e libertà espressiva. La meccanica del Besson è ottima e specialmente per i passaggi di tecnica si ha la certezza, con adeguate cura e pulizia dello strumento, di sentirsi a proprio agio ai concerti, poiché non succede mai che i pistoni si blocchino. Le parti che costituiscono lo strumento sono campana, i pistoni, in questo caso tre in linea e il quarto che funge da ritorta, il trigger, le pompe dei pistoni, la pompa di intonazione principale, la canna di imboccatura, ed infine il bocchino. La scelta del bocchino è personalissima. Io mi trovo molto bene con il Dennis Wick modello Steven Mid Ultra 4. È un bocchino che mi permette di avere un bel suono e risonanza in tutti i registri. Il trigger, detto anche innesco oculis, è fondamentalmente una leva, che permette di abbassare la pompa generale dello strumento, potendo modificare così l'intonazione. Le note che richiedono l'abbassamento dei pistoni sono generalmente Mi bemolle, Mi fa sol, reali e acuti. Ovviamente a seconda della necessità che ha lo strumentista. è della tonalità o funzione armonica della nota. Come in tutti i flicorni, lo sviluppo del canneggio dell'eofonium è più conico di trombe e trombini. Così come cambia la svasatura della campana, che è più progressiva. Lo strumento ha come armonico fondamentale un Si bemolle. Ovvero, quando non si agisce sui pistoni, suona la serie armonica del Si bemolle. Il canneggio dell'eofonium è più conico di trombe e trombe e trombe e trombe e trombe. Il canneggio dell'eofonium è più conico di trombe e trombe e trombe e trombe e trombe. Grazie.